Solamente una settimana dopo la conquista del titolo di campione europeo di specialità, John Prissy-Peterson si conferma e conquista la maglia ridata e il titolo di campione del mondo nella cronometro Under-23 maschile, ai mondiali di Lovagno 2021. Una grandissima prova del danese Danimarca che tra l'altro si porta a casa il suo quinto titolo nelle ultime sei edizioni. Nel 2015 a Richmond a vincere fu Mats Wurzmit, corridore che attualmente corre nelle fila della Israel Startup Nation ed è il campione nazionale in linea. Nel 2016 unica pausa vinse il tedesco Matisse e poi il Tris di Mikkel Bjerg conquistò la prova nel 2017, nel 2018, nel 2019. Nel 2020 non si è disputata causa Covid e appunto nel 2021 si è tornati con la vittoria di John Prissy-Peterson. John Prissy-Peterson che ha già all'interno del suo polmaresse due titoli di campione europeo nel 2019, appunto nel 2021, una settimana fa conquistate sulle strade trentine, sulle strade appunto degli europei di Trento e quest'oggi si conferma il miglior Cronoman Under-23 attualmente in circolazione conquistando appunto il titolo di campione del mondo. 34 minuti e 29 secondi a una media rara di 52,7 km all'ora per coprire i 30,3 km sostanzialmente totalmente pieneggianti con anche poche curve, ad eccezione appunto degli attraversamenti cittadini soprattutto a inizio e a fine prova, con partenza dalla spiaggia di Nockeheist, cittadina appunto sul mare del nord, arriva appunto nella bellissima città fiamminga di Bruges che viene soprannominata la Venezia del nord appunto per la quantità di canali, appunto una cittadina molto molto bella che è stata anche in sede di arrivo della cronometro maschile elite di ieri che è stata conquistata ancora una volta dal nostro Pippo Ganna. Comunque, tornando alla prova di oggi, al primo intertempo, al miglior tempo, era fatto registrare da Magnus Sheffield, corridore statunitense che è stato tra l'altro quest'oggi annunciato dalla Ineos Grenadiers, dall'anno prossimo correrà nelle fila della formazione britannica, corridore classe 2002, quindi primo anno nella categoria A per lui, già passerà professionista, un corridore che è molto forte sia su strada sia su pista, dove ritiene il record del mondo junior dell'inseguimento individuale. Seconda posizione appunto in questo intermedio per Lucas Plapp, altro corridore che l'anno prossimo correrà nella formazione britannica della Ineos Grenadiers, altro corridore fortissimo sia su strada sia su pista, specialmente appunto nell'inseguimento individuale e nel quartetto, dove è uno degli elementi fondamentali per il quartetto australiano, che è uno dei quartetti più forti, assieme appunto al nostro quartetto italiano, campione olimpico in carico, assieme al quartetto danese e anche volendo a Germania e Nuova Zelanda. Terza posizione appunto per colui che vincerà poi la prova, Pris e Paitersen, a solamente 3 secondi. Erano tutti vicinissimi perché erano in 5 secondi, con Sheffield, Plapp, Pris e Paitersen, Vareschield e Florian Vermersch, corridore che corre professionista nell'otto sud al. Al secondo intertempo a fare la differenza è Johan Pris e Paitersen. Johan Pris e Paitersen che quest'oggi è andato con un rapporto veramente durissimo. Aveva il rapporto più duro di quelli che hanno corso nella prova di oggi, sostanzialmente un 58, così come era anche il rapporto fatto, spinto ieri da Filippo Ganna nella cronometro Elite, e appunto nella parte centrale, che sostanzialmente era fatta di lunghissimi rettilini attorno ai canali, via gli alberati appunto di Pioppi, lunghissimi rettilini che favorivano appunto i corridori che riuscivano a spingere rapporti più duri, come appunto Pris e Paitersen, rispetto appunto a Plapp e Vareschield aveva una moltiplica più dura. Seconda posizione appunto per Plapp, che scende appunto a 6 secondi da Pris e Paitersen, poi Vareschield e Sheffield, che crolla dal primo al quarto posto a 12 secondi di distacco dal danese, e poi di nuovo quinta posizione per Florian Vermersch. Nel finale Pris e Paitersen riesce a mantenere il vantaggio su Lucas Plapp, andando addirittura ad incrementarlo ulteriormente di altri 4 secondi, tant'è che appunto vince con 10 secondi di margine sul corridore australiano, che appunto correrà per la Ines Grenadiers, e poi terza posizione per Florian Vermersch, che fa un grandissimo finale, nel corridore della Lotto Sudal, riesce addirittura a recuperare un secondo, anzi due secondi nella parte finale rispetto al danese, andando a portarsi in terza posizione scavalcando Vareschield e appunto Sheffield, che crolla completamente nel finale, chiuderà addirittura in decima posizione, dopo essere stato primo e quarto nei due intermedi. Quarta posizione per Vareschield, che chiude abbastanza vicino al podio, due secondi solamente da Vermersch, tre secondi solamente da Lucas Plapp, 13 secondi appunto da Jom, Pris e Paitersen. Aumenta poi il divario se si va a vedere appunto la quinta posizione, che è occupata da Mick Van Dyck, corridore che l'anno prossimo correrà nella Jambovisma, o meglio, è già stato messo sotto contratto praticamente un paio di settimane fa dal team principale della Jambovisma, dopo che ha corso per due stagioni nel development, diciamo nel vivai appunto della formazione olandese. Corridore veramente fortissimo, è uno dei grandi favoriti, potenzialmente il mio favorito per la prova in linea, perché è un corridore dotato di un ottimo spunto veloce, di un'ottima resistenza, ovviamente fortissimo sul passo perché è forte a cronometro, e se lascia cavare anche sugli strappi e sul pavé, per cui potenzialmente nella prova in linea partirà come uno dei grandi favoriti in generale. L'Olanda avrà veramente una formazione micidiale nella prova in linea Under-23. Quinta posizione, sesta posizione per un altro olandese, Dan Hall, che ha fatto bene nel finale, dopo che negli intermedi era praticamente quasi fuori dai 10, chiude in sesta posizione, un'ottima prova per lui, 39 secondi di distacco da Pris-Paitersen, completa la top 10, Hilton Vernon a 43 secondi, Michael Esman a 48 secondi, Filippo Barancini, il nostro Filippo Barancini, ha 57 secondi, un ottimo finale anche per lui, che era dodicesimo nei due intermedi, riesce a recuperare tre posizioni nel finale, un'ottima prova appunto per Filippo Barancini, che anche lui partirà come uno dei possibili favoriti per la prova in linea. Lui che è stato argento agli europei, battuto solamente dal figlio d'arte Thibonis, figlio appunto del grandissimo ciclocrossista Sven Nis, Thibonis anche lui specialista del ciclocross, che anche lui correrà nella prova Under-23 in linea, e sarà anche lui uno dei favoriti, ovviamente. Barancini comunque ha fatto quarto recentemente, un paio di giorni fa, alla Coppa Sabatini, vinta da Valgren davanti al Sonic All-Brelli, campione europeo, e appunto lo attendiamo nella prova in linea. Comunque una buona prova per lui, un'ottima prova per lui, non a posizione in questo cronometro, completa la top 10, appunto Magnus Sheffield, che chiude a 58 secondi, perdendone sostanzialmente 46 negli ultimi 10 km rispetto al denese. Veramente un crollo nettissimo per lo statunitense, che diciamo, essendo primo anno, ancora non aveva tanta familiarità con le cronometro, perché tra l'altro negli Stati Uniti, sostanzialmente in questi due anni di pandemia, non si è corso, per cui veramente pochissime gare per lui, ancora gli mancava diciamo l'esperienza su queste distanze, sui 30 km, per cui è partito fortissimo, e poi nel finale è andato veramente a crollare, comunque decima posizione per lui, che l'anno prossimo, ricordiamo, passerà professionista con il team Ineos-Grenadiers. Dunque, podio che vede davanti la Danimarca, con John Priest and Fighters, l'argento per l'Australia con Lucas Plapp, e bronzo per il Belgio, che ha già conquistato due medaglie nella prova elite maschile, l'argento appunto di Wout van Aert, e il bronzo di Renko e Venepoel, alle spalle appunto del nostro Pippo Ganna, del nostro grandissimo Pippo nazionale, e quindi terza medaglia per il Belgio, che però ancora una volta si deve accontentare di un piazzamento di rincalzo sul podio. Comunque ragazzi, direi che per questo è il video di tutto, vi lascerò un commento e un piacere di iscrivervi, se non ci sono le nostre amici, se non ci vediamo un prossimo video, pomeriggio ci sarà la prova femminile elite, quindi mi raccomando guardatela, e poi passate subito sul nostro canale, per vedere il post gara.